Oggi ospite in radio l'assessore alle politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. Abbiamo parlato principalmente di un appuntamento molto importante che sta per arrivare mercoledì prossimo, 19, a Genova, al Galata Museo del Mare, il convegno diritto di crescere. Un convegno importante, Lorena, per quali motivi in particolare? Un convegno importante perché è un punto di arrivo rispetto a tutte le cose messe in campo dalla Regione Liguria in questi anni, dal mio assessorato, dagli uffici, dalla rete dei servizi territoriali, ma anche un punto di partenza per migliorare il sostegno alle famiglie che oggi sono fragili e tutelare di più i bambini, i ragazzi in questo loro diritto di crescere.